Attenzione, ingresso nella zona nera. Attenzione, hai rinnegato la divisione e sei marcato come traditore. Estrazione carico in corso. Pronti a trainarlo a bordo. 30 secondi al completamento dell'estrazione. Recupero annullato a causa dei traditori. Rilevato evento contaminante sotto il livello stradale. Tassi di contaminazione in aumento sotto il livello stradale. Mi appiccino! Mi appiccino! Un agente traditore è stato neutralizzato. Anzi, non ci sono più fuori. Agente, mi dirigo sulla tua posizione.